Il silenzio delle donne, ovvero quello che le donne non dicono ma che gli uomini interpretano, è il senso del romanzo scritto da Eugenio Alaio e presentato ieri sera a Torre del Greco nell'intrigante scenario del caffè bistro Papille di Corso Vittorio Emanuele. Sullo sfondo l'universo femminile, le sue emozioni e la sua capacità di reagire al dinamismo e al flusso inesorabile della vita. Nelle pagine dello scrittore napoletano quattro coppie, quattro storie di vita che si intrecciano e nelle cui vicende determinante è la caratterizzazione femminile. Il tutto arricchito dal continuo motivo del viaggio e dalle attente descrizioni dei luoghi. Eugenio Alaio con il primo romanzo Alvaro, Il silenzio delle donne, la storia di quattro uomini, le vicende di quattro uomini letti nel silenzio delle loro donne. È un libro che racconta delle esperienze di quattro coppie che hanno una serie di vicissitudini legate a problemi di dipendenza e che in contemporanea riescono attraverso il viaggio, quindi viaggiando tutti insieme, a sviscerare, a stemperare i problemi che discendono da queste vicende. Emerge nell'ambito delle quattro storie il ruolo della donna che silentemente porta i protagonisti maschili alla risoluzione dei problemi. Il primo romanzo che vede la luce è come nasce la passione per la scrittura, quando matura e perché uscire con un romanzo? La passione per la scrittura nasce molti molti anni fa attraverso la scrittura di articoli e libri scientifici, economici, perché io in primis faccio il bancario, lavoro in banca. Da questo è disceso un desiderio che si è maturato negli anni di lasciare qualcosa e di qui il romanzo, raccontare delle esperienze di viaggio vissute in prima persona e montate su storie comuni che possono rimarcare a dipendenza dai venti ma alla fine a dipendenza dal viaggio come fattore di sviluppo della propria vita individuale. Nel silenzio delle donne cosa bisogna leggere? Quello che le donne non dicono o quello che le donne dicono attraverso il silenzio? Bisogna leggere quello che le donne non dicono, che peraltro è il titolo originario del libro. Il libro è nato con questa idea che poi non ho potuto portare avanti perché è un noto titolo di una canzone che oltretutto ha avuto molto successo, quindi da qui il silenzio delle donne. Ma è proprio in quello che le nonne non dicono, la scoperta degli uomini che vivono a fianco di queste donne vite alla fine meravigliose, nonostante vite con grossi problemi. Il suo rapporto con le donne è le donne più importanti della sua vita? Favoloso il mio rapporto con le donne, le donne più importanti della mia vita, nonostante mia moglie possa rizerarsi su questo, sono tutte importanti perché ogni donna nasconde un sogno negli occhi, ha qualcosa da dire. Prossimi progetti editoriali? Eh, ne ho già quattro nel cassetto di libri finiti e man mano vedremo, se si instaura una empatia col pubblico potenziale e attuale, usciranno alla luce anche gli altri quattro romanzi che ho scritto. A farla cornice all'evento, la realtà di Aisha, associazione di volontariato che organizza e promuove missioni medico-umanitarie ed azioni finalizzate al riscatto della dignità della donna in Africa e nei luoghi più sofferenti del continente nero. Giulio Carotenuto, presidente di Aisha Foundation, di che cosa si occupa l'associazione e quali sono i temi principali che vedete e affrontate nella quotidianità della realtà Africa? La Aisha Foundation è un'organizzazione di volontariato che nasce dal desiderio mio di portare e garantire la salute a quante più persone al mondo. Io parto due anni fa con la mia prima missione, non appena laureato, e andare in Africa mi ha aperto scenari che mai mi sarei immaginato. Ho visto persone morire con banali malattie che qui si curano con i più semplici farmaci, i più comuni farmaci e questo mi ha aperto e mi ha fatto immaginare di cambiare le cose. Cambiare le cose è difficile perché quando delle cose sono così radicate, sono così diffuse nel mondo, portare avanti un pensiero diverso in controtendenza è difficile. Io che sono una persona molto giovane, insieme ad un gruppo di amici e insieme ad un gruppo di familiari che credono in questo progetto e credono di poter cambiare le cose. In cosa consiste concretamente il progetto e una missione e come si svolge? La missione si svolge con una giornata tipo che comincia dal dormire in delle celle, nella maggior parte dei casi siamo ospiti o delle suore oppure degli stessi villaggi in condizioni ovviamente che sono quelle del continente africano, quindi senza acqua, senza luce e andiamo negli ospedali locali o all'interno di asili, all'interno di scuole per portare la sanità attraverso dei campi mobili attraverso delle strutture portatili, non fisse e in questo modo possiamo garantire ai bambini l'accesso alla salute. Quello che le donne non dicono è il titolo del romanzo di questa sera, che cosa non dice il silenzio delle donne africane? Il silenzio delle donne africane non dice tante cose, penso che una bambina in Africa non ha gli stessi diritti di una bambina qui, è una bambina che nasce sapendo di dover lottare giorno dopo giorno con la povertà, con la fame, con la sete, con la necessità di supportare una famiglia che non le permette di studiare, non le permette di fare ciò che vorrebbe fare, ma le impone ciò che è necessario fare e questo le condiziona, condiziona le loro vite e condiziona il loro futuro. La prossima missione quando sarà e in quali paesi dell'Africa visiterà? La prossima missione sarà tra due mesi in Benin, dove ho già compiuto due missioni in passato, ne farò una terza e sarà principalmente sanitaria con degli interventi di chirurgia che verranno fatti tramite un pool di medici che parte anche dalla Federico II. Seguente andiamo a luglio in Costa d'Avorio, quindi lì faremo una bella missione sanitaria di circa una ventina di giorni. La prossima missione sarà tra due mesi iniziali. La prossima missione sarà tra due mesi iniziali.